Siamo con Elia legati al termine di Feralpisalo Terestina 0-2, è stata una partita sottotono quella di oggi, uno scontro diretto che pesa in questo caso, che cosa è mancato? Sì, la squadra l'aveva preparata bene, era carica nel modo giusto, purtroppo c'è da fare il complimento all'avversario che ha fatto un'ottima partita, brillante, ho sbagliato poco, soprattutto all'inizio ogni seconda palla arrivavano prima di noi e questo sicuramente è un aspetto che ci ha fatto soffrire e poi ci ha fatto trovare, ha trovato il gol in due occasioni dove ci abbiamo messo del nostro perché il primo gol non abbiamo marcato bene, secondo gol io potevo fare meglio sicuramente, però sicuramente una vittoria, una vittoria che la Terestina ha meritato. Non bisogna staccare la spina, ci sono due partite fondamentali. Questo penso è l'aspetto più importante in questo momento, resettare tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso e che meritatamente abbiamo fatto fino adesso perché il giorno di ritorno ci ha detto che noi siamo una squadra che può stare là in alto, doveva stare là in alto, non c'è e ora abbiamo due partite fondamentali per farci elevare nel migliore dei modi al playoff.